Stai molto attento ad acquistare pacchetti sfusi. Queste due bustine di fiammo scure sembrano identiche, ma in realtà sono totalmente diverse. La prima pesa circa 22,40 grammi, mentre la seconda ne pesa circa 22,60. Questa differenza di circa 0,20 grammi mi fa pensare che molto probabilmente la bustina più leggera contiene una rara nonolo, quindi non vale nulla. Mentre la bustina più pesante molto probabilmente contiene almeno una rara olo o superiore, quindi ha un potenziale enorme. E allora sbustiamo! Cominciamo da quello leggero. Come potete vedere è perfettamente sigillato. Che bello! Kangaskhan Reverse e dovrebbe esserci una non olografica. Ed ecco qua. E adesso quello più pesante. Anche questo, come vedete, è perfettamente sigillato. Apriamolo. Upa Reverse e qui almeno un'olografica. Vediamo. Questo per dimostrarvi che non sempre funziona questa teoria. Seguimi per i prossimi unboxing.